Si narra che in un tempo lontano il Dio del fuoco creò la notte, la notte, la notte, perché nel buio brillassero le sue fiamme, le sue fiamme, le sue fiamme. Si narra che da quelle fiamme nascessero i sogni degli uomini e per ogni notte fu creato un sogno diverso, diverso, diverso. Gli uomini sognarono così per anni, finché una notte le fiamme del Dio si spensero. E quella notte tutto ciò che prima si era solo immaginato si trasformò in realtà. Benvenuti in quella notte, il cui nome è Hypnosis Gold 5. Grazie a tutti. Da una folle idea di Alex S. ed Epsisonic. Benvenuti in Hypnosis Gold 5. E questa notte si alterneranno in console più tardi Zenith, Tatanka, Zatox e Wild Motherfucker. Da questo momento in console accogliamolo con un grande applauso. Hypnosis!